Ciao Omar, Marianna e Graziella. Vi ricordate che sono? Sono Alessandro della Magica Gang di Bim Bum Bam. Mi fa piacere che Telenovela Serie TV sia arrivato a un anno. Vi faccio i miei più grandi auguri. Vi ringrazio di aver pensato a me. Non pensavo di essere ricordato da tutti, spero volentieri. Vi mando un grosso in bocca al lupo per la vostra Telenovela Serie TV. Ringrazio tutti e risentiamoci, mi raccomando. Ciao ragazzi, grandissimi!